C'è una casella che resta da riempire nell'organigramma tecnico, c'è un vuoto che il Cerignola è scritto per la seconda stagione consecutiva al campionato di Serie D e in procinto di colmare. Ovvio il riferimento al ruolo di direttore sportivo della società Ofantina, in carico che il presidente Nicola Grieco sembra orientato da fidare ad Alessandro Degli Esposti, ex osservatore della Lega Nazionale Direttanti, e molto vicino al DS del Parma, Daniele Faggiano contestualmente però continua l'opera di rafforzamento della società cerignolana che sta concentrando le proprie attenzioni sul centroavanti, che andrà a completare un tridente offensivo di notevole spessore con le novità Giuseppe Sicleri e Riccardo Lattanzio nel mirino dei gialloblu al momento come suggestione. Sarebbe finito Daniele Caccia, il secondo marcatore della storia della Serie B, ha giocato nell'ultima stagione con il Cesena a cordi praticamente raggiunti, inoltre per Domenico Di Cecco e Lorenzo Longo a centro campo, mentre per la difesa il Cerignola lavora sempre in direzione a Francesco Bertolo, che ha vinto l'ultima Serie D a potenza. Sono due le novità di mercato per il Bitonto, che rinforza la difesa con Francesco D'Angelo nella passata stagione, prima a Francavilla e Insigni, poi al Taranto, preso pure il centrocampista Giuseppe Andriano, 19enne cresciuto nelle giovanili del Bari e riduce dall'esperienza in eccellenza con il Molfetta. Il Gravina conferma il giovane portiere Andrea L'Oliva, classe 2000, e punta su Fabio Romeo per la difesa, ex Francavilla a mare, e Davide Corso per il centrocampo, quest'ultimo è stato ad Olimpia agnonese, insieme al neotecnico De Murgiani, Pino Di Meo, non parteciperà alla prossima Serie D invece l'Alto Tavogliere Sansevero, escluso dalla graduatoria dei ripescaggi. In eccellenza invece il Barletta ufficializza il portiere Alessandro Sansona dopo il centrale difensivo Daniele Bruno, e il terzino Mancino Juniores e Salvatore Rizzi. Certe le conferme anche di Francesco Grumo e Luca Varola, entrambi alla terza stagione in bianco-rosso. Due giovani in più per il Molfetta e per il suo tecnico Pino Giusto, il confermato Giulio Martinelli, utilizzabile come terzino e mezz'ala, e la novità Kevin Cfarcu, centrocampista, la matricola a Terlizzi, dà il benvenuto all'attaccante Nicola Scaruso, il casarano infine, affida l'incarico di direttore sportivo a Marcello Pitino, ex Andrea e Barletta.